Ciao, come state? Tutto bene? Grazie che siete qua con me, benvenuti sul mio canale. Oggi voglio riflettere insieme a voi su sei questioni, sei convinzioni oppure paradossi, insomma sei riflessioni su alcuni punti importanti secondo me che ti fanno dire, spero, wow, wow, forse ha ragione, wow, forse è così, è questo che mi serve per poter attuare il cambiamento e per poter avere i risultati che cerco. Ecco, parlo di sei riflessioni secondo me utili per la nostra crescita personale, per il nostro percorso di crescita. Entro subito nel tema e vi dico il mio primo punto. Avete presente quando noi siamo veramente convinti e veramente motivati quella cosa ci riesce al 100%, ma quando per esempio non sei convinto del tutto, ma comunque attui il cambiamento, per esempio, non so, il matrimonio, no? Il matrimonio, tu sposi quell'uomo, sposi quella donna, ma non sei convinto al 100% che è la persona per te, che è quello il tuo uomo, che è quella la tua donna. Ecco perché poi io non mi meraviglio quando ci sono le crisi e non possono essere ripristinate, l'armonia, eccetera, non si può recuperare qualcosa che non è mai stato. Ecco perché i tradimenti, ecco perché, non so, le separazioni, perché quando non sei convinto al 100% non ti riesce, così come quando magari hai una dipendenza e vuoi a tutti i costi attivare il cambiamento, vuoi a tutti i costi adottare delle strategie, delle, non so, nuove abitudini per far sì che tu non, non so, non bevi più, oppure non ti droghi più, oppure non mangi più, non lo so, un po' a caso, patatine, eccetera, ma finché non siamo del tutto convinti, al 100% convinti, non riusciamo a cambiare, non riusciamo a, non ci riesce ecco al 100%. E io credo che la chiave non è prendere quella decisione per far sì che il cambiamento abbia successo, no? Ma la chiave è lavorare sulla tua motivazione. Il secondo punto di cui voglio parlare è questo, che ha a che fare con la comunicazione, io parlo spesso della comunicazione perché è un'area che a me piace molto e tanti di noi sono convinti che sono molto graditi, che sono molto tipo al top della socialità, che sono molto cercati, che sono molto amati, adorati dagli altri, ma in realtà ci sono alcuni errori che fanno proprio queste persone, no? Che credono di essere convinti, di essere ricercati da tutti, amati da tutti, ma queste persone a volte fanno dei gravissimi errori nella comunicazione, nel interagire con l'altro, nell'approccio e parlo di tante cose come prima di tutto il gossip, perché una persona non può essere amata, non può essere al top della socialità quando parla male dell'altro nella sua assenza, no, è l'errore più grave dal mio punto di vista, le persone non ti amano se sei così, le persone non ti amano se dai dei giudizi a sinistra e a destra tutti e critichi l'altro, l'uno o l'altro, le persone non ti cercano se tu sei negativo, se tu quando li incontri critichi quello, dici che quello non è capace, quell'altro è stupido, quell'altro è corto, quell'altro è incapace, quell'altro è brutto, quell'altro è grasso, quell'altro non merita la tua attenzione, quell'altro non so che difetti ha, perciò le persone non sono attirate da te se tu sei così negativo, perché le persone cercano un altro che alza, solleva il suo livello energetico, non so, ti mette di buon umore, ti dà una buona energia, non ti drena le energie, perciò nessuno cerca la compagnia di uno che critica, che è negativo, che parla male degli altri, non può essere ricercato chi, non so, chi si lamenta continuamente, oppure chi ancora di più, chi esagera, chi crea caos, chi crea, non so, drama intorno a sé, no, non sono ricercate queste persone, ed ecco io credo che tanti di quelli che si credono al top della socialità sbagliano di grosso, non può essere ricercata, amata una persona che è dogmatica, che dice no, è solo io so, solo io imbocca la verità, queste persone non sono affatto amate, ricercate, non sono un esempio per gli altri e non sono nel top della socialità e nessuno vuole stare davvero in compagnia, se non ha dei doppi fini ovviamente. Un altro punto secondo me importante da fermarsi un po', talmente importante che secondo me vale la pena riflettere, è la consapevolezza e i confini. Tante persone dicono ma io non sono capace a mettere i confini perché sono forse una persona sensibile, sono una persona molto empatica, ma in realtà alcuni di noi che magari hanno avuto un'esperienza traumatica, un'esperienza in cui magari uno dei genitori era talmente imprevedibile che creava un'esperienza di rischio per te in quei tempi. Perciò adesso magari ti trovi un po' a mediare, ti trovi un po', nel senso chi muove un po' troppo le acque, chi crea un conflitto, chi alza la voce, chi ti trovi un po' a mediare, a sistemare, a sistemare quello, a sistemare l'altro, ma non perché, avete capito, perché c'è una ferita, perché hai vissuto un'esperienza invalidante nella tua infanzia, un'esperienza traumatica e adesso tendi un po' ad essere in sintonia magari con le cose un po' negative, nel senso a sistemare le cose negative, a sistemare le persone negative, a sistemare un comportamento, non so, disfunzionale, perché nella tua infanzia hai imparato questo, a metterti al riparo, a cercare di abbassare la voce, a cercare di non disturbare, a cercare di calmare magari quella situazione, quel genitore. Un altro punto che secondo me non è affatto da sottovalutare, sono un po' gli estremi e qua faccio riferire ad un certo aspetto, io a volte sento persone che dicono io posso vivere benissimo da sola, per tutta la vita, io sto benissimo da sola così, sto benissimo da sola, non ho bisogno, non ho bisogno di un altro uomo accanto, di un'altra donna, io voglio vivere così in solitaria, sto bene così, sto bene così, vivo molto bene con me stesso. Ecco, io non credo che questa affermazione è sempre del tutto benefica, del tutto salutaria per noi, almeno che tu non fai una scelta di vita religiosa, spirituale, non so, da erremita, una vita eremitica che vivi in isolamento, altrimenti mi sembra più una scelta un po' di auto isolamento, per perdita quasi di fiducia nei confronti del prossimo. Sarebbe bello che noi potessimo sentirci al nostro agio anche insieme agli altri e non aver bisogno di questo isolamento, di questa auto esclusione da tutti e da tutto. Invece io credo che la chiave è proprio stabilire e trovare o ritrovare oppure cercare un contatto davvero profondo, un legame davvero profondo, autentico con l'altro, o almeno l'intento deve essere quello, di cercare di stabilire dei contatti profondi, autentici con le persone, di non perdere mai la speranza. C'è anche una poesia che a me piace molto, ricordo solo un pezzo, anzi forse non mi ricordo neanche un pezzo, ma comunque esprime molto bene questo concetto di chi si auto isola, di chi magari perde la speranza, di chi dice io vivo bene così perché non ho bisogno di altro, di altri. Ad un cuore spezzato nessun cuore si volga se non quello che ha l'arduo privilegio d'avere altrettanto sofferto. A me piace molto questa poesia, poi ve la lascio anche lì sotto, anche perché davvero forse a volte non tanto è necessario cercare, no vetere, andare in isolamento, andare e quanto guardare con dei nuovi occhi. Un altro punto che vale la pena secondo me fermarsi e riflettere perché secondo me ci aiuta nel nostro percorso di crescita sono le rotture o meglio ancora l'accettazione di una fine, di un rapporto per esempio, la rottura, una separazione. Tanti non riescono a lasciare andare, tanti non riescono ad accettare che c'è una fine, che c'è una chiusura, che c'è un rifiuto da parte dell'altro. ci piace credere che queste cose non dovrebbero esistere, ma è inevitabile, fanno parte della vita e bisogna imparare a lasciare andare e ad accettare, anche perché poi quello che conta è l'approccio, è l'approccio di fronte ad una difficoltà, è l'approccio che hai di fronte ad una separazione, di fronte ad una rottura, di fronte ad un lutto, anche perché certo sarebbe non umano, sarebbe disumano che tu dopo essere disconnesso, dopo che hai rotto un legame meraviglioso con una persona meravigliosa, tu adesso saresti al settimo cielo, sarebbe disumano, però nemmeno rimanere bloccato lì a fare la vittima, a piangerti addosso per tutta la vita, perché bisogna vivere, bisogna continuare a vivere comunque, vuoi vivere così, isolato, che nessuno ti cerca, anche perché a nessuno piace la compagnia di questa persona, che si piange addosso, che si lamenta, che si tiene aggrappata sempre a quella persona, non so, che l'ha tradita, che non lo so, a nessuno piace la compagnia di questa persona, neanche a te stesso, perciò ci sono tanti di noi che fanno proprio fatica ad accettare una fine, beh la vita è fatta anche di questo, e la differenza lo fa proprio il nostro approccio, la fiducia che abbiamo nelle nostre proprie capacità ad affrontare una difficoltà, come anche quando magari in una relazione trovi il bad boy che ti dice guarda io non voglio avere una relazione seria, se vuoi divertirti con me va bene, magari tu cerchi tutt'altro, ma rimani comunque in quella relazione sperando che questo cambia, che questo cambia le sue convinzioni, che tu sei l'eccezione e che per te questo qua cambierà, beh non c'è nulla di più pericoloso anche, traumatico, se tu rimani in un rapporto pensando che nonostante quella persona ti verbalizza, ti dice io non ti amo, io non sono preso da te, io non cerco una relazione seria, nonostante questo tu resti lì sperando che quella persona cambi per te, perché tu magari sei l'eccezione, perché tu riesci a, no quella è una perdita di tempo, è un logorarsi ed è anche rischioso. Un altro punto che a me piace tanto ed è specifico solo per noi donne e il potere delle donne. Io credo che noi donne non siamo del tutto consapevoli del nostro potere femminile, di questa energia femminile che abbiamo addosso. Non siamo del tutto consapevoli del nostro potere, sì. Se io ti chiedessi Maria qual è il tuo potere femminile? Qual è secondo te il tuo potere femminile? Vero che avresti magari un po' di difficoltà nel rispondermi? Anch'io, anch'io spesso mi faccio questa domanda e mi piace e voglio ricordarlo anche a voi. Ogni tanto bisogna chiederselo ma qual è il mio vibe? Qual è il mio, qual è la mia forza? Che cosa mi rappresenta nell'energia femminile? Che azioni mi rappresentano di più? Che azioni mi danno quella potenza? Fa bene anche perché magari man mano che passa il tempo facendoti queste domande, oltre che diventi più consapevoli, magari scopri anche nove cose belle di te. E poi sai cosa? Se io facessi invece questa domanda ad un uomo, magari, sapete che magari ci potrebbe sorprendere? Perché quell'uomo magari ci direbbe, ah, qual è il potere delle donne? La loro energia, la morbidezza, la quiete, la forza, il nutrimento, il conforto, la spala su cui piangere. Beh, vero che ci potrebbe sorprendere, invece noi di noi stesse non siamo sempre del tutto consapevoli. Anche perché l'acqua non è fuoco, ma se l'acqua fosse consapevole delle sue proprie capacità, beh, arriverebbe molto, molto lontana. Ed ecco è stato un po' questo il mio video di oggi, sperando che vi è stato d'aiuto, che vi è stato utile nel far delle nuove riflessioni, nel migliorare il vostro processo di crescita personale. Ci vediamo sicuramente presto sul mio canale. Se vi è piaciuto questo tema, fatemelo sapere, io vi aspetto nei commenti. Se avete qualcos'altro da aggiungere qua, fatelo, io vi sono davvero grata. Se vi è piaciuto lasciatemi un like. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, fatelo. Io davvero vi ringrazio molto quando vedo che siete così attivi. e grazie, grazie, grazie di cuore. Buona giornata, buona domenica.